Siamo con Aruna e Foxy che fanno parte del progetto Sprar. Aruna da quanto tempo sei in Italia? Da un anno, sette mesi adesso. E tu Foxy? Sì, adesso un anno, sei mesi adesso, in L'Aquila. Ci raccontate che cosa fate con l'associazione, cosa avete fatto con questi bambini nel progetto? Ho fatto una lettura della storia del signor G con i bambini e oggi sto qua lavorando con loro per festeggiare la fine. Vi siete divertiti, è stato bello lavorare? Sì, è stato bello lavorare con i bambini. Anche tu ti sei divertito? Sì, sì, anche io sono signor G. Io faccio la parte del signor G. Da dove vieni? D'Ambia. Ecco, avete raccontato anche ai bambini un po' del vostro paese? No, però io racconto a loro come io stavo qui. L'anno scorso io ho già fatto due spettacoli di Colombo con Arci. Adesso oggi noi stiamo qui ancora per fare altro spettacolo. Con Arci che attività fate? Che cosa fate? Raccontaci un po' una giornata con loro. Per Arci è una comunità come la Sprarra. loro aiutano per noi per trovare un lavoro, anche scuola. Capito? Beh, l'italiano l'avete imparato bene però. Sì, sì, sì. Però sì. Come ti trovi all'Aquila, Aruna? No, mi trovi meglio, meglio all'Aquila perché sto qui in l'Aquila, sto a fare la scuola dell'italiano, anche sto con Arci. Vi trovate bene? Mi trovate bene all'Italia, l'Aquila. Grazie. Quanti uccellini, signor G, e che belle piume erano, signor C.